Buongiorno, oggi dopo la partita tra la Meridiana e Catania 80, siamo con il mister Lorenzo Di Stefano, come è andato oggi in questa prima partita? Diciamo che sul risultato abbiamo vinto, insomma l'ho visto in una squadra come io pretendevo che giocassi, però dai i bambini hanno dato il massimo e di questo sono contento, è un divertimento, siamo qui per questo Magari un po' la prima, ci devono un po' svegliare stamattina Sì, speriamo che si svegliano a più presto Allora dai, il mister dice che non siete andati benissimo, com'è andato? Non sono benissimo, non giocato in primo anno E chi ha giocato male? Tutta la squadra, un giorno Nessuno si è salvato? Tutti Vabbè, cercate di fare meglio dopo, no? Vi svegliate un po' Avete fatto colazione stamattina? Come no? Ma li facciamo mangiare questi ragazzi? Oh, qua, ci attacca I genitori I genitori, colpevoli i genitori Allora, volete fare colazione? Così vi svegli un po' e allora ci vediamo dopo C'è stato un po' e allora ci vediamo dopo Grazie a tutti.